Michael Tumi delle Fiamme Aro di Padova, oggi hai ricevuto un encomio in polizia per i tuoi risultati a Goteborg? Sì, sono molto felice e soddisfatto di aver avuto l'onore di ricevere questo riconoscimento e spero in futuro di poterne ricevere altri se si può. Quali i tuoi impegni futuri? Il prossimo impegno sono sicuramente i campionati italiani assoluti all'aperto, dopodiché ci saranno gli europei e speriamo eventuali Olimpiadi. E poi tra le tue vittorie anche il record italiano? Sì, nello stesso anno ho compiuto questo record che spero anche di migliorare un giorno e spero anche di far bene anche nei 100 metri, di avvicinarmi a quel record in mennea anche se so che è una leggenda ed è molto difficile. Però ognuno segue la sua stella ispiratrice.